Ah 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 la potenza degli dei si muove lenta ma sicura corregge lo spirito pazzo di chi non ama le cose divine Questi dei nascondono il piede del tempo e vanno a cacciare l'empio Nessuno lo deve sapere, che cosa è la saggezza e quale dono degli dei Più bello che prendere con mano forte la testa dei nemici Fortunato chi sfugge dal mare in tempesta, fortunato chi sfugge nel modo dell'altro E' alto chi trova la sua fortuna, che cosa è la saggezza e quale dono degli dei Più bello che prendere con mano forte la testa dei nemici Grazie 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 Grazie